Ciao ragazzi, volevo dirvi che mi mancate molto, Elia, Nicole, Francesco, ma vi domando, anno scorso quando ero in Sicilia mi chiedevate sempre quando tornavo a casa, adesso non ho ricevuto un minchiata di messaggio dove si dice, nonno quando torni? Io sono un po' preoccupato, non è che volete che rimanga qua in Brasile per sempre, ciao!